Parliamo di arte digitale perché è importante, anche qui vi voglio raccontare un punto di vista, secondo me, come dire, che serve, perché è un momento in cui vedo che siete tanti ad investire negli NFT, nell'arte digitale, eccetera, ma io vi volevo spiegare un po' da dove arriva questo mondo, perché altrimenti si fa un po' ficca. Allora, il mondo degli NFT, cioè dell'arte digitale non fungible tokens, perché esiste? Esiste perché sicuramente è una nuova forma di, per dare importanza a un link, per dare importanza ad un file, per dare un'unicità che prima non aveva, ma questo ha aperto un mercato, un mercato che spesso non è pulitissimo, quindi dagli investitori che erano un po' stufi di mettere i soldi nei soliti posti, perché quelli che hanno tanti soldi li devono mettere da qualche parte, non li possono tenere in banca, non li possono tenere sul conto corrente, non li possono tenere sotto il materasso, ci possono comprare qualcosa, con la speranza che non perdano valore e possibilmente cresca. L'oro è sempre stata una di questi luoghi, di questi rifugio, di questi beni che in qualche modo davano la possibilità di avere garanzia a medio o lungo termine e, vabbè, certo, anche di immobili ci mancherebbe, però erano già più complessi perché necessitano di manutenzione, mentre l'oro banalmente no, ed ecco che arrivano questi nuovi mondi, che hanno anche dei vantaggi per alcuni, cioè non sono tracciabili e quindi c'è chi ci mette veramente tanti soldi e ha fatto crescere un grande mondo che, in fondo, che cos'è? È un modo per dare valore a un link, ok? Cioè per dare valore a un collegamento, perché in fondo quello che viene veramente venduto è un collegamento, cioè l'unicità di un collegamento, un link, poco più di un link, ok? Poco più di un link e quindi quello che si compra, quello su cui si investe o quello su cui si si scommette è un link e io sto vedendo veramente circolare tanti soldi, ma veramente tanti, avete visto prima, no? Solo 2 mila miliardi di dollari in mondo, vabbè, in quel caso varie creditovalute, ma anche qui i soldi che incominciano a girare sono tanti. Ragazzi, occhi aperti però, veramente occhi aperti perché il gatto e la volpe sono sempre lì a proposito di Edo. Oggi solo Bitcoin vale un trilione, cioè sono mille miliardi, cioè mille, migliaia di miliardi ed è tanta roba, è tanta roba e c'è chi davvero vi porta via l'anima. Questo non significa per niente che sia un mondo che finirà, che è falso, che nasce per rubare o che è rischioso in modo così, come dire, estremo, ma vedo che sono più quelli con gli occhi chiusi che non con gli occhi aperti, perché attrae, questo mondo attrae anche gli scommettitori, perché in fondo più che un investimento è spesso una scommessa. Ed ecco appunto i gattini che vengono venduti a milioni di dollari per avere una versione così più o meno colorata. C'è chi ci fa un mucchio di soldi, però attenzione perché spesso sono il gatto e la volpe.